I parcheggi non bastano mai, i clienti si lamentano e di conseguenza anche i commercianti. L'illuminazione pare davvero poca, qualcuno l'ha definita da cimitero, ma qui nella zona Montefalco non ci sono problemi di sicurezza. Qualche tentativo di scasso l'ha subito la tabaccaia che ha il distributore notturno di sigarette, ma per il resto regna la tranquillità. Gli argomenti che tengono banco in questa nuova puntata di Arezzo Notizia e On The Road sono quello del Carnevale dell'Orciolaia, tutti lo vogliono senza ombra di dubbio, e quello del cantiere perenne della fibra ottica che il comune di Arezzo ha posizionato in fondo alla zona Montefalco, nella parte più vicina alla Casa dell'Energia, che è molto degradata. C'è Piero al lavoro nel nuovo Young Bar, si sta preparando caffè e Martina come va? Va bene, va bene. Il lavoro ce n'è abbastanza. Zona Montefalco come le sembra? Sarebbe una bella zona, se fosse un po' più lavoro magari sarebbe pareti vite, magari si sono allontanate, la dipendente ride e ora licenzio. Però avete un buon parcheggio davanti che vi può aiutare? Sì, sì, come zona sì, il parcheggio. Tutti normali, in realtà. Tra poco è Carnevale, ci sarà quest'anno qui il Carnevale? No, dicono che non lo fanno. Lei che ne pensa? Lo vorrebbe? Lo vorrebbe sì. Perché? Perché anche poco, ma qualcosa porta. Togli qui, togli là e va a finire che insomma il lavoro viene sempre a mancare. C'è davvero il problema decorandoli sulle grate? Per me no. Per me non esiste, è un problema che se lo sono un po' inventato. I problemi sono altri, molto più seri. Non sul Carnevale? No, 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 ma sì. Siete stati aperti in quelle domeniche lì? Avete lavorato bene? Sì, si è lavorato abbastanza. Non è che risolve tanto, però tutto fa. Questa è una zona che sarebbe adatta per il mercato. Sarebbe adatta per il mercato, sarebbe predisposta, però ne ho sentito parlare ma non l'hanno mai preso in considerazione o perché per interesse altrui o per cosa non ce l'hanno mai portato, non ce lo potrebbero portare. Come sa dritto anche noi, come lavorano laggiù in più, un giorno, sono quattro giorni al mese, è tanto. In fondo all'anno sono 56 giorni lavorativi che noi non si sottolineiscono. Quella è una cosa grande, quelle sono cose importanti. Farlo girare magari 10 anni, 5 anni in un posto, sempre che però qui mi sembra proprio che sia, non lo so, un po' più trascurata. Perché la zona è bella però. Di là dal Monte Falco c'è anche il parcheggio Baldaccio, quello non vi ha aiutato a portare gente? No, 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 quello non ci ha aiutato, forse perché la gente magari non lo capisce o per via dei costi, non so qual è il motivo, però non viene utilizzato per niente. Ma per quanto mi riguarda abbastanza bene ancora, però so che molti negozi soffrono e purtroppo dovuta alla crisi senz'altro. Però la zona mi sembra abbastanza viva, speriamo che proceda, anzi migliori la situazione perché comincia ad essere un po' pesante. C'è il rischio che qualcuno se ne vada, secondo lei, che si chiuda qualche serrata? Ma in questo momento credo che quelli che ci sono sono, nel senso sono dei negozi abbastanza consolidati, quelli magari che sono già andati via, sono già andati via nel senso quelli pochino più deboli. No, penso di no, per sentita dire, insomma, sento che quelli che ci sono lavorano. Anche perché comunque non c'è stato tanto turnover di negozi in questa zona, sì qualcuno è cambiato, però effettivamente da quando esiste... Ci sono un paio di posti, sono un po' abbastanza girati, però per il resto siamo abbastanza di vecchia data, insomma. E problematiche che lei riscontra lavorando in questa zona, dal, non so, parcheggi, come siete serviti, l'illuminazione, ci sono brutte... L'illuminazione è molto carente, perché anche più precisamente qui davanti c'è il lampione che non funziona, per cui anche di notte, insomma, avendo il distributore, le sigarette, la telecamera, tutto quanto, però si vede anche un po'... Cioè, e poi molto, molto buio. Molto buio. Quindi vi siete dotati comunque di sistemi di sicurezza? Sì, sì. Perché? Io personalmente ho avuto molte volte tentativi. Delle visite sgradite? No, tentativi, però... Di scassa? Ho capito. Sì, perché la zona è, diciamo, prettamente uffici, per cui di notte è isolata, cioè vuota, non c'è nessuno. Ho capito. Capitolo carnevale, forse non si fa il problema dei residenti di Montefalco che lamentano i coriandoli nelle grate, qual è la sua opinione? Ma io sinceramente, boh, non mi sembra questo grande, diciamo, problema, anche perché hanno preso dei provvedimenti per non intasare queste grate, per cui anche l'ultima volta è andata abbastanza bene, insomma, per cui... Lei lo vorrebbe? Sì, sì, sì. Apre in quella domenica? Sì, certo, certo, certo. Io sono aperta anche la mattina, sicché... Con un Sergio dell'Innocenti Group, allora, come si lavora in zona Montefalco? Voi da quanto tempo ci siete? Allora, noi siamo arrivati qui nel settembre dell'89. Diciamo, la zona era ancora in costruzione, quindi non c'era, c'era solo questo edificio. E avete resistito? Abbiamo resistito, siamo stati tenaci. Avevamo fiducia nella zona. Diciamo che speravamo che diventasse una zona come poi è diventata. Chi ne pensa di zona Montefalco adesso come è? Ma, zona Montefalco è una buona zona. Direi che l'unico problema che può esserci segnalato, che si può segnalare, è quello dei parcheggi che sono sempre insufficienti. Però come zona direi che è una buona zona, c'è molto passaggio, c'è un bel parco davanti. E quindi, ecco, non ci sono grosse lamenti alle da fare. Il movimento c'è. Il rapporto con il Carnevale dell'Orciolalia, che da qualche anno si tiene da queste parti, nelle domeniche di Carnevale, con i residenti che lamentano invece la problematica delle grate intasate dai coriandoli. Qual è la sua opinione? Certo, ho sentito di questi problemi e credo che il problema sia reale, nel senso che hanno creato dei danni. Certamente alla zona non può che fare bene una manifestazione, un evento, anzi, magari durante l'anno ce ne fossero di eventi particolari che possono far vedere la zona e farla conoscere. Per cui io credo, noi in particolare non abbiamo un beneficio diretto, anche perché come tipo di lavoro. Però credo che gli eventi che vengono fatti nelle varie zone portano sempre dei benefici. Anche quello estivo, magari è venuta con Fesercenti, se non sbaglio, da queste parti. Sì, 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 anche quello estivo, anzi, per l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare anche cose diverse, più importanti, di muoverci in modo diverso. Dal punto di vista della sicurezza, ci sono presenze o si sono verificati problemi di ordine pubblico? No, devo dire che non so se grazie alla caserma dei Carabinieri che è qua vicino, la polizia... Sì, la polizia e i Carabinieri. Esatto, quindi non so se grazie a questo, ma comunque come zona è piuttosto tranquilla. Non si sono verificati neanche di notte problemi e quindi presumo che sia anche dovuto un po' a questo. Ci lavora da tanti anni? Ci lavora da tanti anni, però è una zona un po' lasciata in balia dell'onda, insomma diciamo, perché se non siamo noi commercianti che si chiara un pochino su, il resto nessuno ci pensa. Il carnevale lo vorrebbe? Sì. Perché? Ma perché in fondo è una zona che si presta, poi è sempre una vetrina, c'è sempre una vetrina da vedere. Pierangelo, lei ha detto che quando si spengono le luci di queste vetrine c'è buio in questa zona. Sì, è una zona che una volta chiusi i negozi, con le luci che c'è, sembra di essere in un cimitero. Ecco. Proprio ti prende l'angoscia a passare da questa strada qui. Certo. Ecco tutto qui. Quindi l'amministrazione che cosa vorrebbe dire? Beh, di intervenire magari anche con le luci soprattutto per illuminare la zona. e poi, non so, creare qualche cosa che dia possibilità alla gente di frequentare anche questa zona qui. Ok. E tramite internet, tramite questo video c'è anche un'altra possibilità. Il vostro figlio è lontano, a New York lavora. A New York. Potete salutarlo se volete, vi vedrà almeno. Ciao Massi, ciao. Ciao Massi. Assisti frequentatori della zona Montefalco per motivi di lavoro, come la trova? Assolutamente frequentatori del bar di Gabriele, del bar Montefalco e anche residenti come attività aziendale qui a Montefalco. molto carina zona, una delle migliori secondo me dal punto di vista degli spazi verdi, degli spazi dei marciapiedi. È una zona vivibile, è una zona carina. e invitiamo, se volete, di questo che si sta parlando anche il Carnevale, sempre che se il Carnevale abbia quella cortezza e quella delicatezza di ovviare alcuni inconvenienti in quanto riguarda la pulizia del condominio, partecipando almeno anche a certi inconvenienti spese, traduciamo la parola in concretezza, del condominio. per il resto è un'area che si presta al gioco dei bimbi, ci sono giardini, ci sono prati, siamo vicini al centro. Certo, è un'area comoda perché insomma in poco spazio c'è tutto. Sì, sì, sì. Anche un po' di parcheggi, non bastano mai. Sì, assolutamente, però di quelle che abbiamo visto, almeno per il Carnevale, si stavo parlando sicuramente io di un benvenuto da parte di un residente di Montefalco. Essenzialmente questa zona, anche se è vicina al centro, ne resta abbastanza esclusa perché comunque il traffico pedonale, diciamo, si ferma in via Petrarca. Quindi qua viviamo un po' di studi medici, geometri, uffici vari, quindi ecco appunto come zona è un attimino isolata. Comunque, diciamo, nel nostro settore si sopravvive abbastanza bene anche in questo momento di crisi. Il vostro rapporto con il Carnevale dell'Orciolaia che da qualche anno si tiene qui, sì oppure no? Ma assolutamente sì, non vedo motivi per cui dover intralciare appunto un'attività che comunque è utile sia per noi esercenti che anche per la popolazione che si diverte comunque in una manifestazione di questo genere. Dal nostro punto di vista si ha maggior ragione perché tutte le attività, tutte le manifestazioni che possono portare gente, quindi possibili clienti nella nostra zona sono comunque ben accolte. Ci sono state problematiche di ordine pubblico che lei sappia? Ha avuto episodi di mancanza di sicurezza oppure no? Beh no, in questa zona qua siamo tra i carabinieri e la polizia. Qualche piccolo fatto ogni tanto succede, capita di trovare la porta con dei segni tentativi, maldestri, però ecco diciamo che grosse problematiche in questa zona non mi risultano. Adesso siamo all'occhiale qui in via zona Montefalco. Come si lavora da queste parti? Come va questo periodo? Ma no, io non mi lamento sinceramente, nel mio settore è abbastanza bene. Ci sono problematiche in questa zona? Problematiche riguardo l'illuminazione, ecco sì, per quanto riguarda l'illuminazione è buia questa zona, infatti l'abbiamo detto più volte che sarebbe da riguardare un attimino, però ancora non è stato fatto niente. Ecco, l'illuminazione porta più sicurezza, ci sono stati casi negativi da queste parti? No, qui nella zona ancora no. Forse la vicinanza di carabinieri e polizia aiuti? Eh, senz'altro. I commercianti di questa zona che ne pensano del carnevale a Montefalco? Beh, tutti gli anni è andata abbastanza bene, io speriamo che anche quest'anno venga rifatto perché è una zona che perlomeno permette insomma di fare questo carnevale. Ecco, voi aprite durante il carnevale? Sì, sempre. Quindi è una cosa contante? Sempre, noi commercianti siamo molto contenti, almeno sono due o tre giorni l'anno, capito, che magari perlomeno siamo contenti. Bene, noi siamo qua da circa 15 anni, anche forse qualche anno più penso, perché sono arrivato dopo io, e il lavoro va bene, diciamo abbiamo chiaramente a periodi, dei flussi più o meno importanti di persone. Ci sono problematiche da segnalare in questa zona? Che ne so, la viabilità, il sistema dei parcheggi, come va? Sì, abbiamo, diciamo, il cliente che entra delle volte è sempre preoccupato per il parcheggio, perché magari lascia la macchina un po' in mezzo alla via, oppure magari perché c'è da mettere il tagliandino. Comunque si risolvono tutti, insomma, questi problemi. L'illuminazione? L'illuminazione, parla di illuminazione natalizia. Pubblica, natalizia, qualsiasi cosa che... Ma l'illuminazione natalizia, mi sembra un paio d'anni che ci stanno facendo questo servizio, mi sembra abbastanza buono, insomma, giusto per fare sempre qualcosa in più, per l'illuminazione pubblica penso che vada bene, dai, che sia proprio... Se ce n'è più è meglio. Ok, episodi di mancanza di sicurezza, problemi di ordine pubblico, ce ne sono stati? No, noi abbiamo un servizio di un vigile, diciamo, di quartiere, che comunque paghiamo un contributo, fa il giro, passa due volte al giorno. Vigilanza privata? Poi ho visto, ci sono anche, non so che sono, i carabinieri di quartiere, non lo so. Sì, l'avete visti? L'ho visti passare, sì, ora personalmente non li conosco, però vedo che ci sono. No, grossi problemi di sicurezza? Forzatamente no, ecco, per ora no. Ecco, vediamo il rapporto con il Carnevale dell'Orciolaia che negli anni si è svolto qui in zona Montefalco e che se troverà i fondi per esistere ancora forse tornerà. Da parte sua c'è stata anche collaborazione nel trovare la soluzione ottimale per i tappeti sulle grate. Sì, si è evidenziato un problema per i coriandoli che cadevano giù nei scarichi, insomma, ora non sono stato dietro a tutte queste problematiche, comunque sono disponibile a quello che è un aiuto, insomma, a quello che posso fare. Perché penso sia una cosa anche positiva. Quindi sia al Carnevale che a Montefalco? Sì, 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 poi se si scontra con qualcun altro non lo so, ecco, queste non le so, non so al corrente di questi problemi, ecco. No, più o meno è sempre uguale. Sì? Sì, ma anche come sicurezza più o meno è la stessa, non è che ci sia, perlomeno per quello che mi riguarda non credo che ci sia grossi problemi di furti o cose del genere, anche perché siamo tra i carabinieri e la polizia, siamo proprio nel mezzo, forse siamo un pochino più protetti, forse. Problematiche della zona da segnalare ci sono, secondo lei? Cioè, a mio avviso è una zona che non ha avuto il giusto sviluppo economicamente, è una zona abbastanza morta, come centro commerciale non ha avuto quello sviluppo che l'avrebbe dovuto avere. Voi avete resistito, insomma, da sempre però, da quando c'è la zona Montefalco, voi avete qui il negozio? Ma a noi si è resistito perché il discorso mio è artigianale, io sono artigiano, l'attività prevalente è artigiano, di conseguenza io, il negozio è come supporto artigianale, io credo che se fosse il negozio basta, non verrebbe andare a cercare di fare qualche altro lavoro, come lo dimostra il fatto che tutti i negozi che chiudono continuamente in queste zone. Continuerete ancora a tenere questa vetrina aperta? Ma a lei considera che io sono in pensione a una certa età? Non lo so, vediamo, vediamo come sviluppa la crisi, come sviluppa tutto, non lo so. Rapporto con il Carnevale? Ma a noi, sì, il Carnevale non ci porta niente a noi come negozio perché non si vende materiale elettrico, perciò ben venga tutto quello che è nuovo, però a noi personalmente non è che ci porta granché. La zona sarebbe, non sarebbe male sinceramente, c'è un bel centro commerciale naturale, sta riprendendo un attimino anche un piccolo a livello commerciale perché i fondi sfitti stanno tornando su, però qualche problemino tipo i parcheggi, centro commerciali dove i parcheggi sono limitati in maniera drammatica, non è che sia tanto… Si lamentano i clienti? Eh, certo, anche per prendere qualsiasi cosa, o devono lasciare la macchina lontano oppure non trovano il posto, non è tanto piacevole. È vero che dicono c'è il parcheggio Baldaccio per ieri, il parcheggio Baldaccio, chi è che lo usa? Non lo usa nessuno, ma perché secondo voi? E che è un parcheggio progettato, è andato male, non aveva senso fare una cosa del genere interrata in questo modo, magari paradossalmente, anche se avrebbe stato uno proprio averlo fatto esterno, forse qualcosa di più avrebbe ottenuto, però la congettura insomma è lontana, non viene servito, io sinceramente se devo prendere un oggetto qui, qualsiasi esatto negozio, devo mettere la macchina, farmi due piani, venire, non lo faccio, rischio piuttosto di prendere una multa a costarmi da qualche parte qui e vedere se riesco in 30 secondi a fare la spesa, c'è una bella struttura qua che potrà servire anche chi ha l'ufficio, perché non è soltanto commerciali, l'ufficio durante la settimana, per i professionisti, medici, che insomma dicono giustamente c'è il parcheggio, usate quello, ma dovete, è un costo anche quello lì, è un costo, sostenere inizialmente un poco o tanto, non mi romperebbe la scatola. Questioni di sicurezza si pongono in questa zona? La sera non è una zona tanto simpale che sta di fatto, so che qualcuno quando va a prendere la cordiera o lascia la macchina là, la sera non è tanto entusiasta di passare qua dietro. È buio? È buio, sinceramente io di cose particolari non ne sono da conoscenza, qualche atto vandalico che viene fatto, tipo piccoli furti, però penso che siano statisticamente nella norma, cose del genere, tipo i bancali, i pellet che vengono portati via, ogni tanto qualche bischerata insomma, però a livello di sicurezza, grandi cose non ci sono state, anche se uscire la sera non è... Poi abbiamo una guardia giurata che gira durante l'orario del lavoro, che è un attimino... A pagamento e a vigilanza privata, giusto? A pagamento. Il vostro rapporto invece con il carnevale dell'Orciolaia, siete favorevoli oppure no? A me sinceramente non mi lascia, anche perché non essendo un settore coinvolto direttamente nel carnevale, perché le volte che sono state aperte non mi ha cambiato che... Certo, un'iniziativa in quel modo non mi sembra malvagia, anzi, quando c'è un po' di festa fa sempre piacere. Però sinceramente dovessi dare un'opinione e dire sì, ci vuole perché... Non ho l'idea in chiara. È un po' differente, lei? Sì, diciamo di sì, egoisticamente sì. Io sono al 2010, si lavora abbastanza bene, è una buona zona. Come la trova lei? Ci sono problematiche oppure no? L'unica cosa sono i parcheggi. Anche i clienti lo dicono? Sì. Pochi? Sono pochi parcheggi, c'è il problema dei vigili che continuamente fanno le multe. Ok. Il vostro rapporto con il carnevale dell'Orciolaia che si è tenuto qui negli anni che forse ci tornerà, che cosa ne pensate? Siete favorevoli o no? Parecchio sporco. Ok. Sì. Quindi quello è un problema da risolvere. Niente di che. Ci siamo dal 97, quindi sono tanti anni e la zona è una zona molto di movimento in modo particolare durante la settimana. Ovviamente la gente va a sparire il sabato, il sabato diventa molto scarsa la frequenza delle persone. In questo senso può esservi di aiuto il ritorno del carnevale dell'Orciolaia? Beh, direi molto aiuto. Sì, sì. Il carnevale, oltre a portare gente quei giorni del carnevale, ma fa conoscere la zona. Ok. Quindi sei favorevole? Assolutamente. Hai aperto nelle edizioni passate? Certo. Sì. E hai riscontrato un buon... Sì. Specialmente l'ultimo anno sì, c'è stata anche gente che entrava comunque nel negozio, vedeva, guardava e non ti dico ancora cosa acquistare, ma quello è secondario, l'importante è che la gente venga e conosca. Ok. Problematiche della zona ci sono? Mi hai detto un po' forse i parcheggi? Ma il parcheggio sì, ma penso sia un problema di tutte le zone, non lo vedo in modo particolare in questa zona qua. Problemi di sicurezza? No, non direi. Senta, noi siamo qui dal 1996, è una zona di molti uffici, studi professionali e quelli più o meno in questa zona si sono sempre mantenuti. Invece gli esercizi commerciali, a parte noi, hanno subito un certo turnover, quindi molte ditte hanno lasciato e molti fondi sono rimasti per tanto tempo vuoti, non in locazione. E quindi ecco, c'è un po' di... qualcuno sceglie di andare via, qualcuno forse è costretto ad andare via, è una zona in continuo cambiamento. Ecco, quali sono le problematiche secondo lei di questa zona? Non so, dal punto di vista del traffico, del sistema dei parcheggi, c'è qualcosa da segnalare? Personalmente per me non ci sono problemi, nel senso che noi siamo sempre, abbiamo vicino questo parcheggio Montefalco, qui il Baldaccio, che comunque, secondo la mia personale opinione, è un ottimo servizio. Però forse il cliente di passaggio che si vuole fermare non trova, diciamo, non trova opportuno lasciare la macchina. Quindi io non dico tanto quello, quanto più che altro la sistemazione qui davanti, che non si capisce bene... Perché c'è quel cantiere, perché non asfaltano per poter facilitare... Esatto, io non ho capito, avevano parlato di metterci una volta dei giochi, tipo gonfiabili, oppure... Ho visto che hanno piantato degli alberi piccolini che cresceranno, un po' come questi del parco di dietro. Però con questa zona, l'utilizzo di questa zona, di questo spazio non si conosce, no. Questo no. Ok, lei utilizza il Baldaccio come parcheggio? Io personalmente no, perché vengo in bicicletta, ma le mie colleghe sì, hanno l'abbonamento e ci sono delle convenzioni per gli esercizi commerciali, quindi... Quindi eventualmente chi vuole ne può usufruire. Tra poco potrebbe tornare il Carnevale dell'Orciolaia, se avrà le risorse economiche per esserci di nuovo anche quest'anno? Lei che cosa ne pensa anche alla luce delle edizioni passate in questa zona? Ma io so che comunque è un avvenimento molto seguito e soprattutto gli esercizi commerciali e anche qualche negozio che ha un commercio immediato ne approfittano per vedere un po' di gente. Per quanto ci riguarda è meno interessante perché è chiaro, data la tipologia di... Io penso che non ci sono... noi non abbiamo mai avuto dei grossi problemi, però so che i condomini oppure la banca qui accanto quanto c'era ha avuto qualche danno, ma io penso siano cose risolvibili. Ok, la banca abbiamo visto non c'è più, ha chiuso? Dunque la filiale si è spostata, ma non è che è stato dato un messaggio molto chiaro. Ancora molti utenti entrano qui e ci chiedono dove si è trasferita, oppure perché ha chiuso, ma non sappiamo dargli risposta. Prima di chiudere segnaliamo quello che abbiamo visto noi. Siamo andati a vedere da vicino il degrado di questo, che non è né un parco né una zona di passaggio pedonale né un parcheggio. Soltanto è un'area abbandonata che da tempo in memore contiene questo cantiere deposito per i lavori per la fibra ottica del comune di Arezzo. La zona è molto sporca e degradata, ci sono una decina di transenne buttate là ad impedire che sia usata come parcheggio. Ci sono enormi pozze d'acqua e terreno sconnesso. Nella nostra camminata abbiamo notato che ci sono due attraversamenti pedonali a ridosso di due curve dove le auto arrivano abbastanza velocemente e non c'è buona visibilità. Due punti da segnalare come pericolosi per i pedoni. Abbiamo incontrato anche Katia, l'amministratrice dei condomini, che ci ha spiegato la vicenda del carnevale, ribadendo che nessuno dei condomini ha mai detto che non vuole il carnevale, ma che si devono prendere le giuste precauzioni per evitare che le grate si intasino di nuovo di coriandoli. Il problema? Che aveva investito particolarmente il condominio a numeri pari che ha le grate più esterne. Infine, per qualche negozio che se ne va, c'è anche chi riapre. Avevamo lasciato il K2 in zona Campomarte con i titolari abbastanza delusi da quell'esperienza e a distanza di due mesi lo ritroviamo in fase di riapertura a Montefalco. Buon lavoro! Buon lavoro!